Il braccio di ferro tra Pdl e Udc sulla spartizione del potere blocca l'attività dell'amministrazione provinciale. Lo hanno ribadito stamane i consiglieri di Palazzo Caracciolo del centro-sinistra alternativo Giuseppe Moricola e Amalio Santoro che alzano il livello della polemica. Troppe questioni restano senza risposte e il Consiglio provinciale si riunisce solo quando è obbligato ad approvare questioni di bilancio. C'è un rapporto conflittuale tra le forze maggiori, c'è un rapporto conflittuale con le cosiddette forze minori, ho visto così con simpatia che è nato anche il centro-destra alternativo all'interno dell'amministrazione provinciale e tutto questo porta alla paralisi della vita dell'ente. Il Consiglio provinciale non si riunisce da mesi, c'è proprio un'autentica sofferenza democratica a Palazzo Caracciolo. Moricola e Santoro elencano le emissioni fallite dal governo provinciale sul lavoro, sviluppo, sanità e rifiuti, questioni sulle quali anche l'opposizione ci aveva messo la faccia, sostenendo la strategia del presidente Sibilia, ma ora è arrivato il momento dello scontro. Le questioni decisive per la prospettiva della nostra provincia sono lì, incancrenite, non si riesce a dare risposta, dal patto per lo sviluppo miseramente fallito, le questioni della sanità, taglio ai servizi, gestione del servizio idrico, fino alle misure per l'emergenza occupazionale, i famosi 500 mila euro distribuiti un po' a pioggia. Su tutto questo c'è una sorta di cortina fumogena. Noi vorremmo riportare il dibattito nelle sedi deputate, nel Consiglio provinciale. Dottolo Mobili vi aspetta a passo di Mirabella, uscita a Grotta Minarda della Napoli Bari, a Salerno e a Foggia in via Casermette.